Tutto era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Sarima degli americani, andiamo! Andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi quando siete in mezzo all'amici? Se tu vuoi parlare con mio padre gli chiedi la mia mano. È fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. Are you sure you guys want to be dangerous? Non è come sembra, non è come sembra. Non c'è nulla tra noi tre. Come avete detto che vi chiamate voi? Giammaresi, Arturo Giammaresi, inducarò. Wow. Grazie. Ma che so? Pensaccio tu. Cari amici, è una giornata speciale, perché grazie agli amici americani, a Cresa Pollo è arrivata la democrazia. Non lo capisci quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Anche io sono in guerra per amore. Grazie. 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 Grazie.